Ele, qualche impressione su questo corso? È stato veramente molto interessante, un sacco di nozioni utili, che ci possono tornare utili nel quotidiano, in situazioni di emergenza, e quindi sono stata contentissima di aver partecipato, grazie. Grazie. Angela, ti è piaciuto? Assolutamente sì, tante cose sono anche da ampliare, diciamo che è stato fatto un escursus e adesso dobbiamo anche continuare a studiare, perché ci sono tante cose interessanti da continuare a vedere. Grazie. Cristina, ti è piaciuto questo corso? Sì, è molto utile, sempre molto affrontato sul pratico, quindi interessante e anche divertente. Ok. Michela, ti è piaciuto questo corso? Bellissimo, io avrei fatto anche altre ore, perché è proprio interessante, poi il dottore è bravissimo, quindi è stato molto molto utile, anche proprio non necessariamente sull'intervento magari di un cane per strada, ma anche sui nostri... È utile anche per i proprietari, insomma. Ok, adesso Giorgio Corpanino. Ti è piaciuto questo corso, Giorgio? Sì, molto bello. È stato utile? Voglio. Come tutto quello che si impara qua, non trovo. Ok. Adesso Tiziana. Tiziana, avvicinati. Impressioni su questo corso appena terminato? Bellissimo. Ho imparato molte cose, qualcosa sapevo, ma veramente un approfondimento eccezionale, molto veloce, perché giustamente in dieci ore quello che si riesce a fare, però devo dire ottimo. Ok, Jessica, ciao. Ti è piaciuto questo corso? Buonissimo, molto utile. Ti è piaciuto consigliato? Consigliato, ok. Ti è piaciuto questo corso? Molto. È interessante, presso servizi di montaglia di un canile, quindi non sono un educatore ed è stato veramente molto interessante. Quindi tante notizioni. Ok, grazie.